Il brano del Vangelo secondo Luca dal capitolo 7, i primi dieci versetti. Dopo che Eliebbi terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un serbo, molto stimato, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, li mandò degli anziani e dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo serbo. Essi presentatisi a Gesù lo pregavano con insistenza dicendo «E li merita che tu riconceda questo perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sincola». Gesù si incamminò con loro, ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli «Signore, non darti questo incovo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma dì una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità di tu e lo sotto di me dei soldati e dico a uno «vai» ed egli farà. A un altro «vieni» ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo farà». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva e disse «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede» e quando gli inviati furono tornati a casa trovarono il servo guarito. «Amen». Qui prego di attimo d'Albi. Questa mattina la parola di Dio ci parla della fede. Cos'è la gran fede? A volte la fede non ha niente a che fare con la religione e la religione non ha niente a che fare con la fede. Ci si può essere religiosi e non avere fede. E infatti Gesù stava parlando al popolo di Israele, il popolo religioso che aveva la religione, ma tanti di loro non avevano la fede. E c'era un uomo che era al di fuori di questo popolo, che non era un religioso come loro, però aveva una gran fede. Perché la fede è un'altra cosa. La fede non è tanto legata alla Chiesa o al togma della Chiesa, non è soltanto partecipare a qualche riunione, a qualche incontro, a qualche messa, ma la fede è qualcosa dentro, che ha a che fare con il carattere dell'uomo. Perciò questa mattina vedremo come questo centurione romano, questo pagano, così era considerato dai religiosi giudei, un pagano, però un pagano che è venuto lì in Israele. Lui era praticamente un nemico, perché l'impero romano ha conquistato Israele. Lui era un militare al servizio dell'impero romano, era un conquistatore di quella terra, perciò era considerato un nemico. Però prima di essere un militare, lui ha capito che bisogna essere uomo. Come noi dobbiamo capire che prima di essere religiosi bisogna essere uomo, prima di essere politico, diplomatico, imprenditore, prima di qualsiasi cosa bisogna essere uomo, perché la fede ha a che fare proprio con questo, con il nostro carattere, con il nostro modo di essere. Perché la fede è questo proprio, considerare che noi siamo uomini, che abbiamo bisogno di Dio. E il prossimo, il nostro prossimo, non importa la sua etnia, la sua razza, non importa il suo statuto sociale, il nostro prossimo è sempre un uomo. Perciò lui aveva questa fede, perché la fede innanzitutto è amore, si manifesta nell'amore. Hanno detto questi anziani, e gli merita che tu gli conceda questo, perché egli ama la nostra nazione. Cioè non ama la sua nazione, la nazione altrui, ama, perché questa è la gran fede, che puoi amare, senza essere nemici. Lui ha amato la terra di Israele, amava la nazione, perché la fede innanzitutto è amore. Se tutti gli altri odiavano i popoli, dove andavano, questo centurione romano, ha amato la nazione di Israele. e poi ha amato anche il suo servo. Sapete, a quei tempi il servo era come una macchina, anzi, peggio che una macchina, perché una macchina, almeno la cui, il servo, lo schiavo, era come uno straccio. si poteva togliere e ucciderlo senza essere giudicato. Ma lui rispettava anche il servo, anche chi era nel anonimato, perché egli era un uomo e il suo prossimo era un uomo. Perché la fede è rispetto, rispetto dell'altro, rispetto degli altri, rispetto per le loro convinzioni, per le loro tradizioni, per la loro cultura, per la loro religione. Di solito, a quei tempi, quando c'era una guerra, questa guerra non era soltanto una guerra tra i popoli, ma una guerra tra i dei di quei popoli. Perciò, quando andavano a dire che l'impero romano è andato lì e ha conquistato Israele, loro hanno detto il nostro Dio è più forte del vostro Dio. Allora andiamo nel tempio, bruciamo tutto, distruggiamo tutto per far vedere che il nostro Dio è più grande e imporre il nostro Dio qui. Ma lui non è andato così. Anzi, lui ha costruito la sinagoga, lui ha rispettato la convinzione, lui ha rispettato la gerarchia giudaica, lui ha rispettato le loro tradizioni, la loro cultura. Ed è questo che è stato molto, molto importante per loro. perché la fede è amore e la fede è rispetto per le altre e per la loro religione. La fede è anche impegno nel sociale. Quest'uomo è andato a fare del bene al popolo di Israele. La fede è impegno anche nelle cose di cui la gente ha bisogno. La fede è anche il rispetto dei valori morali ed etici. Di solito quando si va in guerra ci si porta, ci si spazza via proprio tutti i valori morali ed etici. Quest'uomo è andato lì e ha rispettato tutto. Ha rispettato la gente. Ha rispettato le donne, i bambini, le anziane. Perché di solito in guerra non si tiene il conto proprio di niente. Ma questo ha saputo cos'è la fede. Perché la fede è innanzitutto amore e la fede è il rispetto per gli altri. Rispetto per i servi, rispetto per i sacerdoti, per il tempio, per la sinagoga, rispetto per tutti quanti, rispetto per la loro cultura. La fede è amicizia. Anche se lui doveva essere considerato un nemico di Israele, lui è saputo farsi amici. Infatti, davanti a Gesù sono andati i suoi amici per dire «Signor, io non sono degno». Perché la fede è basata sull'amicizia. Perché la fede è una relazione, una comunione con Dio, ma non ci può essere comunione con Dio se non c'è comunione con gli altri. La fede è anche altruismo. Questo centurione non è andato a pregare per lui, per la sua famiglia. Non era lui il malato. il malato era un altro. Lui pregava per un altro. Lui pensava ad un altro. Perché la fede è egoismo. Non è egoismo, non è solo per me, non sono solo io, ma ci sono altri. La fede è anche umiltà. Lui non si è ritenuto degno di andare davanti a Gesù. Non si è ritenuto degno che Gesù entri nella sua casa. Anzi, è stato molto umido. E per questo proprio ha detto io non sono degno. Non sono degno di andare davanti a te. Non sono degno che tu entri nella mia casa. La fede è anche umiltà. Lui non era arrogante come per esempio era Pilato che ha detto a Gesù non sai che io ho il potere, non sai che io faccio quello che voglio con te. Ma lui è andato a Gesù, da Gesù in modo umile. Anzi, non è andato proprio ma è andato agli altri ma non perché era arrogante perché era umile. Perché la fede è umiltà. La fede è sincerità. La fede è semplicità. A me mi piace proprio cosa dice lui. Mi piace la sua semplicità. Di una parola. In Romero c'è di solo una parola. non mi servono due, non servono giri di parole. Serve una parola. Quando io dico a un servo va una parola basta. Non va non servono giri di parole. Una parola basta. Nel suo mondo le cose funzionavano così. Lui diceva vai e il servo o il suo trato andava. A lui i superiori i suoi superiori dicevano va e lui andava e faceva così. perché la fede è anche questo. È serietà la fede semplicità la fede sopponissione all'autorità. Perché lui dice io sono un uomo sottomesso all'autorità e io ho assunto di me altri serviti e loro rispettano l'autorità. c'è questa gerarchia dell'autorità che lui rispetta e che noi come cristiani noi come fedeli dobbiamo rispettare l'autorità di Dio l'autorità della Chiesa le autorità politiche o le autorità amministrative le autorità al lavoro e dappertutto. C'è questo sistema dell'autorità e la fede è questo. Perciò Gesù ha detto questo centurione ha una gran fede neanche in Israele ho trovato una così gran fede come la sua. La fede è onestà essere onesti che abbiamo che non siamo degni non siamo assolutamente degni della grazia di Dio della presenza di Dio ma Dio ci onora sempre con la sua presenza sia benedetto il suo nome. Perciò vorrei chiudere questa mattina sapendo che la fede è amore la fede è rispetto per gli altri per le loro convinzioni per il loro statuto per la loro religione è rispetto dei valori morali ed etici è impegno nel sociale essere utili non è andato a distruggere ma è andato a costruire non è andato a esterminare ma è andato a edificare agli esseri d'aiuto agli altri lui è andato lì ha saputo farsi amici perché la fede è amicizia la fede è semplicità e sincerità e serietà e altruismo la fede è sottomissione all'autorità la fede è onestà la parola di Dio ci dice perché c'è una domanda di Gesù ma quando verrà il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra non chiede Gesù se troverà chiese chiese ne saranno miliardi ma se troverà fede non se troverà fede o cristiano o religioso ne troverà milioni o miliardi ma se troverà fede perché senza la fede è impossibile piacere a Dio chi si accosta Dio dell'aver fede che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano perciò questa mattina dobbiamo pregare Dio che c'è tutti sempre ad avere fede ma questa fede bisogna andare insieme con gli altri con la pratica non si può dire io ho fede nel cuore e basta una convinzione interna una convinzione che si vede alti fuori di noi in tutti i giorni si vede nelle nostre giornate dovunque siamo si deve vedere che abbiamo fede perché è molto importante quello che dice Dio di noi chi siamo lo possiamo dire noi lo possono dire e gli altri e lo può dire Dio su quest'uomo che ha avuto una gran fede gli altri hanno detto e gli merita che tu gli concedi a questo e gli merita l'hanno detto gli altri lui ha detto io non sono Dio e Dio ha detto quest'uomo ha una gran fede che neanche in Israele ho trovato una così gran fede Dio ci bevi che neanche in Israele